poi vedi lei lei è seduta sul trono di vini e spine una coppia piccolina che cazzo sta a fare benvenuti sono Matti Marz siamo sempre qui a End of Fate 2 ormai diventa su un appuntamento fesso perchè poi come dico sempre questo gioco e lo voglio finire e quindi non ci sto impegnando parecchio allora siamo alla terza e l'ultima parte della missione l'imperatrice che dovrebbe essere la terza missione del gioco e dobbiamo arrivare alla battaglia finale dobbiamo incontrare questa scimmia sciamanica abbiamo fatto tutto un percorso per imparare a usare questo martello magico che servirà per uccidere questa scimmia sciamanica ma andiamo a giocare si avvicina la tempesta mentre arrivi a Tarrin e trovi il villaggio attaccato dai predoni un'altra battaglia questa mentre il villaggio brucia ma qui e qui bruciano tutti i villaggi allora e sei l'arma o inventario me lo levi sta cosa qua per favore allora 13 18 18 19 sì però questa è una mano allora questo capo uomo del nord 8 lame dai io mi sono tolato bene con questo andiamo un po' c'è calmo eh faccio quelle scude non le uso praticamente mai quindi a casa di mani vorrebbe andare bene vieni qua 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 perchè ti intrometti che sto combattendo e uno aio vai finiti già il resto anche se è un pochino più rapido per un punto ora ce l'aveva 19 ok invece di da massimo ottimo ah ce l'ho 20 di fama già si sono curioso evitanti sovravvissuti correndo in soccorso alcune non le ferite grazie vabbè quello abbiamo visto anche prima 5 di scibottimo eroe meritevole i giri l'ira dietro tra le mani la runa sul davanti cominci ad emettere una luce dorata non è ben chiaro c'era se ora esso pesi meno se tu abbia nuova forza ma comunque resta riesce a brandire il pesante mortello è abbastanza fama e per il qui venire venire la mia ma la kip si osserva a bocca aperta oh dovrebbe valere una bella sombenta ai mercati hehehehe ma ehm prima usiamola per infangere la barriera dell'accampamento dei predoni dell'onda uccidere la scimmia e porre fine alle razzine una volta e per tutte poi ci penso io me la dai mano a me non ti preoccupare che te la garante la metto da parte e nessuno te la tocca non ti preoccupare il sacrario ok qui noi potremmo andare direttamente a fare il giro largo in tace sconfiggi la scimmia emporio oh una bella notizia compro equipaggiamento 0 vende equipaggiamento io tanto uso solo questo quindi la lama cardinale qualche vendere poi tanto prossima missione reali da ehm compro equipaggiamento 22 maledetto infatti vabbè non ci faccio niente perché tanto c'ho all'arma a due mani compra cibo compra salute potete 20 di vita 78 88 98 infatti abbiamo 120 ok vediamo un po' che qui non succede a scambio oh di nuovo quindi vogliono vogliono dargli qualcosa tipo si dai li do questo volete niente tipo niente vabbè vabbè ah però me l'ha pagata di più quello modosca quando ha riempito d'oro non andate bene se la vendevo al mercante mi dava meno allora però che al mercante non me lo ridà no mi possa accampare però l'epidemia degli indigenti il banditore comunale questo si era già visto il banditore comunale annuncia che l'impero in cerca di mercenari per inizio la battaglia contro la corruzione cerchi la torre di guardia dove si retiene il reclutamento arrivi in tempo per ascoltare il piano di Silmeli di Mellifoldwell di annuncare il distritto degli indigenti l'epidemia è partita di lì e non possiamo rischiare di risparmiare la vita a nessuno di loro dice Silmeli word ha l'ordine di caricare combatti contro i corrotti è ovvio i corrotti stai larmi i corrotti si era visto nella missione precedente che erano della gente malata e dobbiamo praticamente purificare la zona comunque più che altro vedremo il martello in azione che mi interessa vabbè allo martelli e martelloni e che tempo l'ira di vetra donato al popolo dei villaggi occidentali dei pescatori del campo del nord in un periodo di valle di prosperità andiamo oh oh ah 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 però sarebbe carino se questi qua quando ti colpiscono attaccassero una sorta una sorta di malattia qualcosa un avvelenamento quello la butto via è capito ah io f f f f f f ah 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 la schiena polino ha stroncato la spina dorsola ci ha lasciato lo stampo per ogni 2 di fama che non si vede più 15 di oro 15 di oro la redire fa una bella cosa ci accampiamo allora commercia equipaggiamento va bene non mi interessa perché tanto sul martello compra cibo carissimo questo cibo indietro cucinare possiamo sì ma 104 120 ok tanto che c'è più queste due cose qui per abbiamo finito la vecchia manciulla che è di lingua più lingua più lunga che lingua o vita più lunga dai vita più lunga tanto vabbè non mi serve a niente quanto sempre a 119 rimango la migella è in difficoltà ancora scorta a me mi è scassato eh ciao vederci come aveva detto l'anziano di talos fa notare malacalypse il sacrario della scimmia è protetto da una barriera magica meglio che tu provi quel martello sollevi l'ira dietro sopra il tuo capo e la cale sul muro magico con tutta la tua forza il martello c'entra il bersaglio e viene immediatamente circondato da una bufera di neve in ghiaccio l'olulare dei venti ti fa girare da una parte all'altra poi si svaniscono tanto velocemente quanto hanno comparsi avendo perso l'orientamento ti guardi intorno in cerca di malacalypse ma lui non c'è ma a te pare che malacalizie malacalizie e rimani capisci dove ti trovi ti rendi conto di essere un'ora dura nella foresta ricoperta la neve appena caduta poi un passo indietro allora vai sbattere contro qualcosa voltandoti vedi il corpo di malacalypse morto e defunto no vedi un torreggiante membro di un clan un torreggiante membro di un clan del nord calvo e brutale non battisci io ne sembra minimamente interessato a te e gli stai in piedi armi in mano e sguardo cruciato ti volti per seguire il suo sguardo quindi malacalypse non c'è qui c'è un fortiero di nemici e poi vedi lei e poi vedi lei lei seduta sul trono divini e spine no piccoli ma che cazzo sta a fare piccoli cendoli intrecciati di paia e altre cose curiose appese agli alberi alle sue spalle nuoverevoli i predoni stanno davanti inginocchiati venerando il loro capo in un inquiniente immobilità spero tu sappia combattente roi dice praticamente l'uomo del nord calvo ci sono più guerrieri qui di quanti ne possiamo uccidere per uccidere un serpente gli devi tagliare la testa preparare che cazzo vuoi preparare la tua arma mentre scimmie i membri del socro anti circondano insomma c'è un bordello di gente e non ci si capisce più nulla li dobbiamo far fuori tutti un pochino nove e io sono da solo perchè malacalypso se l'hai affidato è un po' da racchiappo malacalypso da racchiappo li faccio vedere guardia leader degli incursori il leader degli incursori rappresenta la prima linea del stato degli uomini del nord nonché un punto di riferimento tattico e religioso asciugale la città attaccano le proprie leate attaccano velocemente e venendo da un modo a fare l'endicazione ma chi ha? ah no questo è con me va che c'è? va bene ma ce la fura a mozzare non è dire che si è incastrata è un colpo davanti a te oh non è il momento non è il momento oddio che ficata ti ammazzi te però oh che fa ti ha fatto ti ha spattato vedi che ti fanno male a te oh F F F F perché non funziona ci vai di qua adesso ho dato la buccia F ehi se ne andava è finita ah non li diamo ammazza tutti il corpo della sciamana quindi era una donna si contacce il mio capitolo si contacce mentre uno spirito scuro abbandona il suo petto scompanellare i piedoni rimasti fuggono nella foresta mentre il cielo torna limpido e il sole splendente sul colo sale guerriero che ha combattuto d'alto fianco io sono col gol ah quindi si sostituisce a malacalypse bene sono nato nei clan del nord ora sono senza un clan tu mi conosci ma non siamo stati sempre così forse un giorno i clan torneranno alla tradizione che hanno perduto e stretta amicizia con col brongin un altro vagabondo basta tu e io abbiamo pulito una piccola porta della macca che ha sul mio onore oggi se mi chiami accorrerò da te eeeh pre pretende un enorme mano e ti afferra l'avambraccio torniamo indietro a cercare il tuo soldale detto ciò tu e Colby intorno a terra foresta in cerca di malacalypse ma per me malacalypse ne va a poter restare chi ne ha more allora apriamo le ricompense finalmente l'hai sconfitto la scimmia del nord uuu armatura dell'ingordigio anelletto bellino le vesti pie e anche ball boot della frontiera poi abbiamo carte nuove fame e infamia torri osservazione imboscata dei predoni e schermaglia al ponte vabbè queste me la lasci no insomma ci mancherebbe no prevestito amicizia con Colby 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 clan l'u minocchio e il vagabundo altra monetina avriamo per il fisso tutti i villaggi il dono dell'anziano altra monetina tre allora non lo trovate l'ha convinto murk ad aiutare malacalypse rivela ok finish quindi ragazzi vediamo un po' cosa si apre niente mi fa piacere allora prossima volta ragazzi faremo la sacerdotessa e niente ragazzi devi concludere qua spero vi siate divertiti come sempre ragazzi vi ricordo iscrivetevi al canale che ha bisogno il canale di crescere commentate mettete like che mi fa piacere anche parlare con voi scrivete anche su Twitch perché almeno due volte a settimana faccio le live e quindi le faccio sia su YouTube che su Twitch contemporaneamente e per niente ci vediamo prossimamente sempre su End of Fett 2 e più tutti gli altri giochi ciao ciao ciao